Buonasera a tutti, ciao ed eccomi qua. Stasera c'ho i capelli un po' del professore pazzo. Allora, stasera sono qua per parlarvi di una fragranza che ho acquistato oggi, che mi piace tantissimo, che ho trovato in super super offerta da Tigotà. La fragranza in questione è questa, Trussardi My Scent, 30 ml Eau de Toilette. Allora, non sono mai stato un grande appassionato, o comunque non mi sono mai tanto interessato di questi profumi, ma ho avuto poi possibilità, proprio da Tigotà, di sentirne diversi e devo ricredermi, oddio, anzi, cioè proprio prima non li calcolavo proprio. Sono profumi molto buoni, io prettamente ho solo provato quelli femminili. Allora, Trussardi My Scent si presenta in questa boccettina rosa molto carina. Il 30 ml ha questo tappino in plastica, semplice, mentre so che nel formato più grosso, forse non so se è il 30 o il 100, ha il tappino rivestito in stoffa, molto bellino, e poi ha questi oblò, come qua che vedete, ne ha 6 davanti, cioè 3 e 3, e anche dietro, se non sbaglio. Invece, in questo, il tappino è semplice, appunto, in plastica, e ha uno blocco addietro, con anche questo blocco nel marchio dell'evriero della casa di Trussardi. Allora, Trussardi My Scent è una fragranza del 2015. È un floreale da donna, frezzante e fresco. Il naso, perdonate, non so la pronuncia, è Nathalie Grassia Setto. Cioè, non so se si pronuncia o chiedo scusa a questo naso, ma proprio non so di che nazionalità sia, non so pronunciare i nomi bene, anzi. Allora, come note di testo in questo profumo, abbiamo note floreali e pera. Nel cuore abbiamo il lilla, la serenoide, che è una molecola di sintesi, un po' come le aldeidi. Mi sono informato ed è, appunto, una nota, cioè una nota molecolare, una molecola, che, appunto, va a dare, diciamo, un po' di vitalità e un po' di frizzantezza, si può dire. Me la passate, non lo so. Alla fragranza. Un po' come le aldeidi, credo, perché hanno più o meno la stessa funzione. Si vede che è un altro tipo di molecola. Poi abbiamo la rosa, che io, personalmente, non avverto tantissimo. Nella base abbiamo l'eleotropio, il cashmeran e il muschio bianco. Allora, adesso lo vaporizzo. Come mi piace. È fresco, è vero. Però, personalmente, non lo sento frizzante. Cioè, io lo sento fresco, ma non frizzante. Lo sento fresco, talcato, floreale, dolce quanto basta. Non dolce eccessivo o comunque stomachevole, assolutamente. Un dolce gradevole, insieme al floreale, appunto, talcato, muschiato, morbido, soffice. Cioè, è molto, molto buono. A me piace tantissimo. Ecco, non vi so dire del sillaggio in questo momento, anche perché lo trovo un profumo delicato, ma secondo me è persistente. Mi piace. Allora, per un certo senso, io lo paragono a questo, al mitico Tandre Poisson. Oddio, che qua la scritta. Nel senso che, allora, sono due fragranze completamente diverse. Lo associo a lui, però, per un semplice motivo, che trovo la stessa sensazione. La fragranza è completamente diversa, non c'entra niente. Ma, avverto questa sensazione di profumo coccoloso, morbido, un po' spensierato, come quella sensazione che mi dà il Tandre Poisson. Buono. Mi piace e mi ha convinto. E comunque, per il prezzo, veramente una cifra irrisoria. Cioè, assolutamente, veramente buono. Se vi capita, andate a sentirlo. Io lo trovo buonissimo. Sicuramente non è un profumo invernale. E siamo in autunno, in oltrato, tra un po' andremo in conto all'inverno. Però, sicuramente, cioè, non c'è una regola. Io sono del parere che se uno si vuole mettere anche sta cosa, non è che deve essere per forza primavera, estate. Lo trovo primaverile. Però, lo metterei anche adesso. Perché, comunque, è vero che in queste ultime settimane ha fatto un sacco d'acqua in tutta Italia, al freddo e quant'altro. Però ci sono state anche delle giornate ancora calde. E io lo trovo... trovo che vada bene. E se voglio metterlo anche quando piove, perché no? Mi dà il buon umore. È fresco, floreale, talcato, buono, morbido, soffice, l'ho già detto. Mi piace tanto. Sono veramente contento. La confezione è stupenda, un po' oleografica, così, bellissima. Niente, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto o comunque, insomma, delle informazioni che io vi ho dato. Magari l'avete visto, non l'avete provato, non lo so. Però, se vi capita, andate a sentirlo. È strepitoso. Il mio naso... a me piace un sacco. Oddio, non riesco a chiuderlo. E quindi, niente. Vi saluto con questo gioiellino. E vi mando un grosso bacio. Al prossimo video. Ciao!